Si preannuncia una settimana quella entrante in cui il maltempo purtroppo sarà più che presente e i primi assaggi di questo maltempo diffuso in particolare nella città di Roma, capitale d'Italia, fino a lunedì ci sono state e si stanno avendo. Nella mattinata infatti forte raffiche di vento si sono registrate in diverse zone della capitale d'Italia, Roma, a partire da Monteverde fino ad arrivare a Baduina per poi passare alla zona di Montemario. Un grosso albero si è, diciamo così, andato a precipitare in viagraff tra piazza Primoli e Viale Kent nel quartiere Montesagro, terzo municipio. Identica situazione anche su via Pia Antica in direzione di via delle Sette Chiese nella zona dell'Arviadina. In piazza Fontegliana, addirittura a Monteverde, si è manifestata una difficoltà di circolazione per colpa di diversi rami cariuti sulla carregiata. Ingenti invece i danni sul viale Palmino Togliatti, dove un tronco di albero è caduto in mezzo alla strada e ha preso in pieno due automobili che si trovavano in loco e le avrebbe danneggiate gravemente. Grazie per eventuali aggiornamenti, se ci sarà la possibilità farò dei video in futuro. Intanto accontentatevi di questo video.